Il Signore ha operato due creazioni, la prima in sei giorni con nuovi cieli e nuove terre e la seconda ancora più meravigliosa quando ha sanato il mondo dal peccato con Gesù Cristo. Celebrando la messa nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha voluto ancora una volta mettere a fuoco l'amore che il Signore nutre per tutti, oltre le miserie e le piccolezze. Dio infatti è innamorato del suo popolo, ha sogni per ogni uomo e per ogni donna e bussa sempre alla porta del nostro cuore per farlo battere di una gioia che non delude e non svanisce. Credo che non ci sia alcun teologo che possa spiegare questo, non si può spiegare, soltanto su questo si può pensare, sentire e piangere di gioia. Il Signore ci può cambiare. E cosa devo fare? Credere. Credere che il Signore può cambiarmi. Che Lui è potente. Come ha fatto quell'uomo che aveva il figlio malato nel Vangelo. Signore, scenda prima che il mio bambino muoia. Va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù le aveva detto. E si mise in cammino. Credete. Credete che Gesù aveva il potere di cambiare il suo bambino. La salute del suo bambino. E ha vinto. La fede è fare spazio a questo amore di Dio. E fare spazio alla potenza, al potere di Dio. Ma non al potere di uno che è molto potente. Al potere di uno che mi ama. Che è innamorato di me. E che vuole la gioia con me. Questo è la fede. Questo è credere. E fare spazio al Signore perché venga mi cambia.